Brutto incidente nella giornata di mercoledì 19 maggio intorno alle 13 sulla strada provinciale 460 a Lombardore a scontrarsi una BMW e una Peugeot. L'impatto è stato molto violento. Sul posto sono prontamente intervenute le ambulanze della Croce Rossa, i vigili del fuoco di Torino e Volpiano, l'elicottolo Drago 66 dei vigili del fuoco e i carabinieri del nucleo radiomobile di Venaria. Il bilancio è di due feriti. Il conducente della Peugeot è stato estratto dalle lamiere e dalla vettura dai vigili del fuoco e affidato alle cure del 118 di Chivasso. Ferito in modo lieve il conducente della BMW. Entrambi sono stati trasportati in ospedale. Il tratto è rimasto chiuso al traffico. Il tempo è necessario per operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi. Sulla 460 si è formata una lunga coda, soprattutto di mezzi pesanti. La dinamica è il valio dei carabinieri. O polizia. O polizia.